Ciao, sono Alessia Crusini, sto frequentando il master in comunicazione e giornalismo di moda da Eidos e sono molto contenta perché sto imparando tante cose nuove. Al tempo stesso sto svolgendo questo stage presso Italia Independent che è un marchio che mi piace, mi piace lavorare, la perché la filosofia del brand è appunto unire tradizione e innovazione e partire da quelli che sono le basi del Made in Italy o comunque di TaylorMade, tradurle in un modo, in un linguaggio completamente nuovo. Quello che faccio per loro è occuparmi di tutti i social media, quindi dal restyling della pagina di Facebook, YouTube e Twitter fino alla creazione di nuovi come Pinterest, come The Cools che è questo e-shop. Mi sono occupata di alcuni progetti come Be Independent Everywhere o il che ha questo viaggio appunto spazio temporale di promozione non raccontata del nuovo prodotto.